Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Un pomeriggio telespettatori di Telequattro, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte ci occuperemo di due iniziative promosse dal Centro Studi Astronomici Antares. Nella prima parte invece siamo in compagnia di Frederic Benvenuti, presidente provinciale dell'Aido, e di Nitter Mandolini, vicepresidente regionale dell'Aido, con i quali parleremo dell'attività di questa associazione. È un'attività meritoria, forse è un'attività che non tutti conoscono perfettamente, che magari si dà per scontata. Abbiamo parlato con Benvenuti circa una decina di giorni fa, durante il pre-teleggiornale delle 13, abbiamo deciso di parlarne in maniera un po' più approfondita durante Trieste in diretta. Tra l'altro Aido celebra 50 anni. Esattamente, il 26 febbraio sono scattati i propri 50 anni dell'associazione, con festeggiamenti che sono partiti già da settembre dell'anno scorso con manifestazioni a Udine in tutta Italia, culminati con il 26, il giorno del cinquantesimo, con la nostra presenza a Roma, di più di 500 delegati dell'Aido nazionale per festeggiare e il Papa ci ha salutato, ci ha ringraziato e per l'ennesima volta ha dichiarato che la donazione è un valore sociale che deve essere portato avanti. Sono vertici per quanto riguarda, immagino sia l'Aido provinciale che, desumo, anche l'Aido regionale, molto giovani anche, mi pare di capire. Sì, diciamo di sì, tra giovani, diciamo di tutta l'età, perché per sociale ci sono svariate attività e per fortuna si riesce a reperire insomma il personale, anzi diciamo che facciamo anche un appello a chi vuole mettersi un po' in gioco e chi ha del tempo per fare volontariato è ben accetto. Nel caso vostro il volontariato come si sostanzierebbe? Nulla di impegnativo, parliamo sempre di volontariato, quindi a tempo libero, noi come dirigenza ovviamente ci impegniamo un po' di più, c'è chi invece darà la sua disponibilità, ad esempio facciamo un evento, un dato giorno, quel giorno lì io posso due ore, io posso tre ore, io posso tutto il giorno, benissimo, quando puoi vieni a darci una mano, se siamo in tanti meglio. Così appunto si lavora anche meglio. Voi rappresentate, posso raccontarlo anche perché ne abbiamo già parlato e magari ne parliamo la prima volta, voi rappresentate anche, è brutto dire ricondurre tutto a degli slogan, ma proprio le due facce del dono, nel senso che Frederick Benvenuti ha donato gli organi del figlio che è venuto a mancare a 16 anni, se non sbaglio, e invece Emitter ha ricevuto invece appunto il cuore, no? Sì esattamente, sono uno dei fortunati che dopo un infarto ho fatto il trappianto di cuore esattamente il 20 marzo 2018 all'ospedale della misericordia di Udine. Che cosa se posso, io su questo sono sempre, vado molto cauto, credo che ci siano due momenti importanti, diciamo, quando ti dicono che devi essere trappiantato e poi immagino anche l'attesa. Sì, devo dire che nel mio caso sono stato fortunato perché ho avuto questo infarto il 4 gennaio 2017, per responsabilità personale sono andato in ospedale tardivo, sono andato in ospedale tardi, diciamo, rispetto al malessere che sentivo. Da lì il mio cuore aveva, diciamo, una pompa del 20%, che è, diciamo, un numero abbastanza insufficiente per mantenere l'erogazione a tutti gli organi, eccetera. Da lì, grazie all'equip, insomma, a Cattinara, per fortuna abbiamo, col professor Sinagra, con tutto lo staff medico, ho fatto circa 270 giorni di ricoveri, fino a settembre 2017, dove un medico, dopo aver fatto tutti gli esami, mi ha confermato che era ora di pensare al trappianto, che era l'unica possibilità per poter continuare la vita. È chiaro che lì, al momento, sei sotto sopra, pensi che la vita sia finita, non è facile, non è facile sicuramente mantenere a calma, è assolutamente necessario avere una famiglia molto attaccata e, per fortuna, anche in quel caso, insomma, la moglie, i miei figli, i miei genitori sono stati veramente vicini. Da lì sono riuscito a inserirmi dopo un lungo, diciamo, esame, perché pare così un'idiozia, però per mantenere e per avere il trappianto devi essere sano. Sì, sì, questo l'avevo già sentito. Devi essere sano, per cui sei sottoposto a un check-up completo, io uso sempre i termini tagliando, però quel tagliando fatto bene, dove per fortuna gli esami sono stati tutti, diciamo, positivi, senza nessun problema e hanno dato il nulla osta. Io sono stato inserito il 15 novembre nelle liste del trappianto e ho avuto la chiamata, la prima chiamata il 12 marzo, il 12 marzo che ricordo molto bene perché l'adrenalina è salita a quel punto che in quel giorno sei veramente sottosopra, però ormai sei, anche perché devo dire che attraverso delle terapie, di un sistema, di comunque avere vicino dei specializzati, dei psicologi, eccetera, mi hanno accompagnato a questa opportunità, perché io la leggo come assoluta opportunità. Quel giorno arriva quel bivio, quel bivio che aspetti, perché sai e sei consapevole che quel giorno potrebbe finire tutto o come iniziare tutto. Quel giorno lì, anche lì, c'è un sistema che ti dà se sei titolare o no, nel senso che ti chiamano anche per fare la riserva, nel senso che quella chiamata ha una compatibilità, quel cuore, nel mio caso è la contabilità di due persone. Chiamano il titolare, diciamo il primo della lista, o comunque un sostituto. Purtroppo quel cuore non era in buone condizioni, ho ricevuto la seconda telefonata a distanza di due ore, la prima stava alle ore 17, la seconda alle ore 19, che purtroppo il cuore non andava bene, che non si faceva più nulla. Io non so se era una sorta di arrabbiatura, ma qualcosa mi è successo, perché quelle opportunità non ti cadono dal cielo così e non succedono ogni santo giorno. Per cui, ahimè, pensavo che la seconda telefonata o forse non sarebbe mai arrivata o magari è arrivata tardi, anche perché una settimana prima, devo dire che ho saputo di aver non più di due o tre settimane di vita. Questo è stato un po' il trauma del marzo 2018. Invece il 19, la festa del papà, forse grazie alla lettera di mio figlio che aveva pregato che arrivasse il cuore, quella telefonata è arrivata e mi hanno detto subito vieni perché è la volta giusta. Sono arrivato, sono andato a fare l'intervento verso le 23, mi sono svegliato alle ore 7.30 del mattino in rianimazione con un calore che non sentivo più da tempo. Sentirsi vivi sarebbe una battuta, ma è vero, ti senti rinato, ti senti vivo e da lì dopo due giorni di terapia intensiva, un paio di giorni in semi-intensiva, a 28 giorni sono tornato a casa. Diciamo che dopo circa 60 giorni sono ritornato a una vita quasi normale. Però chiamano per il giorno, non è che è una roba tipo è possibile fare l'intervento, ci prendiamo un po' di tempo? Quando ricevi la chiamata tu devi arrivare il prima possibile, ti danno tutto il supporto, anche il logistico se necessario, però quando arrivi all'ospedale sei sottoposto a un altro check-up completo per avere i parametri per poter affrontare un intervento di quel genere. Quindi chiamata, corsa a Udine e intervento? Io ho ricevuto la chiamata alle 17.30, sono arrivato a Udine alle 20, diciamo, alle 20 un quarto tipo pit stop della Formula 1, spogliato, tolto tutti i peli, tutto quello che si può fare, eccetera, fatte le prove di sangue, fatto i raggi, fatto tutto quello che bisognava fare, 11.30 in serie operatoria. E invece nel caso tuo è il discorso inverso? Il discorso inverso, è caso voluto, non è mai un caso, che Mitter fosse in ospedale mentre Jack, anche, però Jack stava morendo e lui stava rinascendo. È stato un caso e i suoi 28 giorni, questa è la sua perda oggi e anche Jack è morto il 28. È tutto un susseguirsi di 28, da quel giorno lì il 28 è entrato nella nostra vita e si ripropone in momenti inaspettati come questo, insomma. Lì, anche qua, se posso... Tranquillo. La scelta è stata rapida? Velocissima. È stata una cosa proprio di cuore, è nata tra me e mia moglie, il dottore è venuto fuori e fa signori, dopo Jack è stato 12 giorni, al decimo giorno, nono, signori, non ci hanno mai dato speranza e è arrivato il momento. E con tutta la paura, perché leggevo veramente l'imbarazzo nei suoi occhi, avete mai pensato alla donazione? Io l'ho guardato, come per dire, ma che domanda mi fai? Mi sono girato verso mia moglie e le faccio, certo, la mia moglie è uguale. Non avevate pensato in realtà. Non è una cosa che si parla a casa, mai. Sì, certo, certo. Nessuno le parla a casa, io avevo espresso la mia volontà ancora tanti anni fa, quando Berlusconi aveva fatto il talloncino di carta da mettere nella carta di entità. Ricordo qualcosa, sì. Una ventina di anni fa, io ho già espresso volontariamente la mia volontà. Ma in famiglia, da dire così, da parlarne, in caso di mia morte, mai, mai è successo. Però io e mia moglie ci siamo guardati in un istante e dire assolutamente sì. Non vogliamo che la morte di Jack sia inutile. Perché veramente, cioè morire a 16 anni è già assurdo. No, 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 non è... È già assurdo. Morire e avere la possibilità di salvarne altri, cioè io mi sono immedesimato nell'altro genitore. Genitore, cioè lui l'ha ricevuto direttamente, ma sarebbe stato ancora peggio se al posto suo ci fosse stata sua figlia. Cioè come genitore l'avevo ancora peggio, cioè non posso fare niente per i miei figli e invece io posso fare qualcosa per tuo figlio e gli darò il cuore del mio, gli darò il fegato, gli darò il polmone, tornerò a dargli la vita. Non saprò mai chi è e dico a tuo figlio in maniera generale, ma... Questo è l'altro discorso. Viene mai, e chiedo scusa anche per la domanda forse un po' brusca, la curiosità, chiamiamola la curiosità, che sarebbe sotto certi aspetti pure legittima di sapere a chi gli organi vanno e chi invece te li ha donati. Immagino che sia anche molto naturale come... Assolutamente sì, adesso risponde lui da... Dico se noi la mettiamo alla prima domanda che ti poni quando apri gli occhi, ma nelle dieci domande, le prime dieci domande sicuramente questa domanda c'è. Sì, assolutamente, te lo poni perché c'è un pensiero di gratitudine, perché ti rendi conto che qualcuno ti ha donato la vita, nel senso che qua stiamo parlando non di un aiuto X, credo che dopo la vita, dopo i tuoi genitori, eccetera, è un soggetto terzo che ti ha donato la possibilità di continuare la vita, che prezzo ha, non si sa, e anche proprio per questo motivo qua rendono molto chiusa la possibilità di sapere il donatore, perché ci sono casi, che non spiego adesso, ma ci sono casi veramente assurdi. Questa cosa te la tieni per parecchio tempo, anche con una forma di egoismo, perché inizialmente la prima parola credo che abbia detto a mia moglie, ha detto questo è il mio cuore, penso che sia una cosa che ho avuto così come certezza di sapere che sono rinato. Questa cosa ha durato circa un anetto, devo dire che spesso mi succede il pensiero nei confronti, ma un pensiero di amore, un pensiero di ringraziamento, perché nelle piccole cose questo sì che quando ti fai il trapianto e ti viene fuori, se le cose prima, quelle cose scontate, il sole, la giornata bella, la bella parola, l'abbraccio, la parola anche in famiglia, un abbraccio del figlio, la vivi in modo diverso, nel senso vivi in modo diverso con un godimento maggiore rispetto a pensare che non tutto viene dato per scontato. la cosa è veramente soltanto di puro ringraziamento. Si viene comunque avvisati quando qualcuno riceve appunto l'organo donato? No, non si viene avvisati perché si sa che è già donato, nel senso nel momento in cui viene fatto l'espianto nelle 24 ore l'organo è già piantato. Quindi, ah, non sapevo questo. Eh sì, deve essere velocissimo, altrimenti comincia a andare in necrosi. Sì, giusto. Oggi ci sono diverse modalità, per fortuna dico io, perché per esempio nel cuore fino a un paio d'anni fa, entro le 5 ore dovrà essere trapiantato. Oggi con delle macchine che mantengono il cuore in vita, mantenendo con la pressione, eccetera, nel pompaggio, no? Ci sono dei macchinari che trasportano il cuore mantenendo pressione, battito, eccetera, riescono a garantire più ore, anche a 24 ore e 36, questo permette che al posto di andare a prendere il cuore a Milano potresti andare a prenderlo in sud Italia o anche a l'estero. Intanto, se dalla legia potete far vedere anche le immagini che riguardano le campagne promozionali anche. Certo. Chiedo scusa, benvenuti. Che cosa non sappiamo della possibilità di donare, eccetera? E sulla cui cosa immagino voi anche siete interessati a comunicare di più? Ho fatto una domanda, non so, è una bella domanda perché le persone, quello che manca è informazione. Infatti l'associazione è nata per promuovere 50 anni fa, quando lo Stato ancora non si era mosso in questo campo, quindi un gruppo di volontari si è messo sotto per divulgare questa possibilità, che parliamo di 50 anni fa, quando rispetto adesso alla medicina stiamo parlando veramente dell'era della pietra, del fuoco che ho scoperto. Ora le cose sono molto cambiate, però l'informazione manca ancora, perché a livello istituzionale manca questa istruzione, ma manca a livello non tanto di istruzione, ma anche proprio di cultura. E' un cambiamento culturale che l'associazione vuole instillare negli italiani e per cambiare una cultura dove si parte, si parte dai giovani. E quindi l'associazione Aido italiana, tutt'Italia, e si parte dai comuni e si va avanti con tutti i gradi della società, si creano progetti e programmi di fidelizzazione, di istruzione a quello che è il mondo del trapianto. Quindi partiamo dall'istruire le persone, informarle semplicemente, che basta una semplice informazione che non si è troppo vecchi. Come abbiamo detto l'altro giorno, ah sono vecchio, non sei vecchio, sarà eventualmente il dottore a decidere, ma se c'è un altro vecchio che ha bisogno del tuo organo, perché no? Perché sicuramente non viene dato l'organo di un ragazzo giovane come Jack a un uomo di 70-80 anni. Non ha senso, ci sono tanti ragazzi giovani che hanno bisogno, si va sempre, si cerca di fare un pari grado, non è una cosa così automatica, sono in primo in lista, entro e mi danno l'organo. È una cosa ben più complessa, come anche la gente pensa che non si venga curati perché uno è iscritto all'Aido, sanno che sono un donatore e allora mi lasciano morire che così prendono gli organi. Ce ne sono tanti, questi sono solo alcuni esempi della malinformazione, delle dicerie popolari che le persone però credono. Che vi risulti, negli altri paesi la situazione è diversa, cioè noi nel nostro paese, scontiamo anche un retaggio molto probabilmente. L'Italia non è messa male su questo aspetto, però è molto indietro a Spagna per esempio, a Francia. Spagna per decreto legge ha un potenziale, quando tu hai finito la vita, tu sei un donatore, punto. Ho capito. Per cui c'è un ragionamento di Barrett. Io attaccherei un po' il ragionamento, sul ragionamento di Federick, sull'idea di dire anche che il dir sì alla donazione è anche sgravare di un compito molto difficile per un genitore come è successo a lui o a un familiare che in quel momento ti trovi veramente… Cioè la decisione… Sì, la decisione si può esprimere tranquillamente in autonomia, oggi con lo speed come abbiamo visto si fa in maniera veramente semplice e anche parlarne a casa, nel senso che so che è un argomento difficile, però la morte fa parte della vita. Decidere prima e decidere bene. Vediamo proprio come funziona, nel senso che una persona decide che quando sarà il momento lui appunto donerà, bisogna comunicarlo in qualche modo, c'è un albo… Esiste un albo dei donatori, europeo addirittura, quindi ormai in comunità europea siamo Europa anche per questo, ma le persone semplicemente lo possono fare nel modo che hanno fatto la maggior parte degli italiani e con la carta d'identità. Quando si va a fare il rinnovo della carta d'identità vi fate la domanda, siete favorevoli alle donazioni degli organi? Sì, basta, questo già vi inserisce all'interno della lista. Dopodiché se uno al momento dice di no o a 18 anni dice di no, a 23 gli cambia l'idea, a 50 ha l'idea, ma sì perché no, la vita cambia, lo dimostro io da un giorno all'altro, la vita cambia e per decidere di donare basta semplicemente andare. Se uno non ha lo speed va sul sito dell'Aido italiana, aido.it, più semplice di così si muore e c'è la casellina con scritto un sì per donare. Si seguono le istruzioni nel giro di un minuto, due minuti, tre minuti per chi è proprio scarso di informatica è iscritto all'Aido e si è iscritto automaticamente alla sezione. Dopodiché negli anni siamo andati avanti, dalla carta d'identità, cioè dal sito, la carta d'identità, allo speed tramite la nostra applicazione Aido, anche qui semplicissima, Aido sia Google, quindi Android che Apple, basta scrivere Aido, viene fuori l'applicazione digital Aido, ci si scrive e automaticamente lì c'è la casellina con scritto come votare per, è istruito, è tutto scritto. Una domanda che non vorrei che sembri provocatoria, ma è proprio anche qui, è una sorta di curiosità, come mai non, o forse magari lo si è automaticamente, come mai non è inserito questo dato per esempio nella tessera sanitaria. A naso uno direbbe, è un'idea, diciamo che adesso bisogna dire che anche i comuni, il centro civico sta funzionando in maniera diversa di come funzionava, c'è un po' di chiaramente di più cultura su questo. Io se devo essere sincero, non mi sembra che me l'abbiano chiesto quando ho fatto la carta, quando ho rinnovato la carta. Noi ci scontriamo molto. Se devo essere, posso anche, a me non pare che l'abbiamo chiesto. Ci scontriamo molto, abbiamo chiesto anche un aiuto in regione che ci è stato dato per amore di Dio, ma anche nei comuni, proprio sull'idea che il centro civico, se non lo fa il funzionario del centro civico, almeno ci diano la possibilità di mettere dei nostri collaboratori a invitare le persone al rinnovo della carta di identità, nell'espressione A, di donatori, B, se con Aido ancora meglio. Ho capito. Laddove, anche questo forse dobbiamo ricordare, il consenso dei genitori è necessario quando si tratta purtroppo di un minore. Quando si tratta invece di una persona maggiorenne, se la persona ha escluso di essere donatore, i genitori eventualmente o la moglie, i figli eccetera, possono comunque parlando con i sanitari dite guardate che noi vorremmo che appunto gli organi fossero donati oppure vale comunque la volontà della persona? Un mi, nel senso se lui ha espresso il no, è un no. Se non ha detto niente, a quel punto i genitori possono… I parenti, ci sono casi di opposizione anche nel caso del sì, appunto prima avevo invitato di parlare in famiglia per comunicare la propria volontà, perché ci sono stati casi di aver sottoscritto come donatore e poi impugnato dalla stessa famiglia, ci sono stati casi e lì la cosa peggiore che possa succedere è che il tempo passa e che purtroppo poi gli organi non sono più possibili al trapianto. Perché come nel caso di Jack, il Jack è stato trapiantato un giorno dopo della sua morte effettiva, perché quella notte, io la so pronominata la notte degli angeli, purtroppo 7 persone, 6 persone oltre a Jack sono morte e tutti e 6 erano donatori con Jack 7, quindi c'è stato un surplus di lavoro che calcoliamo che dietro alla donazione, all'espianto e il trapianto c'è una macchina organizzativa enorme, cioè dovevo mai immaginare aerei militari, ambulanze, elicotteri, Lamborghini, polizia, esercito, infermieri, dottori, che si muovono per tutta Italia perché i tempi sono stretti, perché come ha detto prima in 24 ore media deve essere dall'altra parte. Noi sappiamo che Jack è stato portato dalla Puglia al Trentino, quindi capite che, ha detto lui grazie ai macchinari che ci sono, adesso è stato possibile questa cosa, perché capite l'organizzazione, cioè pensare di venire a prendere un pezzo, portare un'equipe, viene qua, come va, vuole di linea, non ci sono, c'è in Puglia, cosa che portano con l'ambulanza, non è mai più, elicotteri militari, quindi aeroporto, elicottero, vengono a un aeroporto, prendi i militari, porta su, c'è dietro una cosa, c'è un apparato statale mostruoso, bellissimo, cioè dobbiamo essere fieri della nostra Italia in questo caso perché veramente muove una macchina enorme in tempi brevissimi. Se posso chiedere che cosa avete donato di Jack? Tutto, tranne un polmone perché lui si era lesionato i due polmoni, uno nei 12 giorni è guarito, quindi uno purtroppo no, ma tutto il resto sì e quindi, e ho scoperto poi, che si possono donare più parti di polmone, cioè un polmone può essere diviso in due o in tre, a seconda se è il destro o il sinistro, il fegato può essere tagliato e dato via a pezzi, il cuore chiaramente no, i reni una persona o un'altra, quindi penso che dai sei alle otto persone siamo riusciti ad aiutare. Tutto, le corne, la pelle, i tendini, tutto quello che si poteva noi l'abbiamo donato. Effettivamente sì, adesso sembra anche una formula quasi retorica, però è come effettivamente se una persona continuasse ad esserci e a maggior ragione facendo del bene non a una sola altra persona, ma in questo caso a 6-7. Io vivo nella felicità che so di aver dato ai papà, mia moglie e le mamme, dall'altra parte, quindi ci ha dato un grande sollievo la cosa. Avete in programma un appuntamento il 12 maggio? Esattamente, come parlavamo prima dell'Aido che si muove a tutti i livelli di età, partiamo quindi dalle elementari alle superiori con corsi di avvicinamento, di comunicazione, di parlare di questo argomento che è molto delicato anche da bambini piccoli, ovviamente nei termini più congeniali è loro, è tutto studiato, non passa il stesso messaggio da una quinta superiore a una terza elementare, chiaramente, poi siamo dai cartoni animati a filmati reali, a dottori che parlano, persone che aiutano per la rianimazione, quindi si fa a vari step, ognuno ha il suo, il suo, diciamo il suo ruolo, il suo ruolo è molto giusto. Il 12 abbiamo una cosa nuova che è organizzato dall'Aido regionale, uno spettacolo teatrale, quindi sono degli attori professionisti che volontariamente si sono messi in gioco per promuovere la donazione degli organi attraverso uno spettacolo teatrale per i giovani, quindi li avviciniamo, ci comportiamo in maniera diversa, gli facciamo divertire, gli facciamo capire in maniera simpatica cos'è la donazione. Tra l'altro ci sono dei dati che sono usciti oggi, non so se avete letto eccetera, per quanto riguarda la donazione di organi, il Frui Venezia Giulia risulta quarto tra le regioni italiane, scalando una posizione rispetto al 2021 con un indice del dono di 63,07 su 100, che sono praticamente i consensi alla donazione, sopra la media nazionale fra l'altro, che nel 2022 si è attestata quota 58,64. A livello di territori, dunque Udine è la migliore tra le province del Frui Venezia Giulia e rimane comunque dodicesima su 107 a livello nazionale, Trieste è al 22esimo posto, Pordenone al 23esimo e Gorizia al 27esimo, quindi grosso modo sono là, laddove il comune più generoso del Frui Venezia Giulia è San Pierdisonzo con una percentuale di 88,5, quindi insomma sono dati anche buoni che però devono essere migliorati in tutti i modi, quindi insomma partendo anche da questi dati da qui si va avanti. Allora, grazie davvero per essere venuti a trovarci, anche per la vostra testimonianza, vediamoci ogni tanto così se ci sono nuove cose da comunicare, nuove iniziative da far presenti, posso fare un piccolo appello velocissimo? Cari concittadini, siamo un'associazione importante a livello nazionale e mondiale, ma siamo piccoli, abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi noi siamo sempre in cerca di volontari perché ci diano una mano per qualsiasi cosa, anche solamente la compagnia, anche solamente aver disponibilità di un'ora al mese, a noi va benissimo, non viene chiesto di lavorare, nel senso di essere fissi a lavorare, ma con le nostre dirigenze avremo tanto da fare e ci servono tante persone, quindi noi siamo disponibili per qualsiasi contatto, potete contattare il sito regionale, vi daranno i miei estremi, ora un po' apriremo la pagina Facebook sul quale troverete tutti i nostri dati, noi vi aspettiamo a braccia aperte per darci una mano e per dare una mano. Io aggiungo ancora una cosa, Aido attraverso un sistema chiaramente comunicativo nuovo, ma su YouTube troverete donazione organi di cartoni morti di Lorenzon, ripeto cartoni morti, guardate la donazione degli organi, lì è ben spiegato tutto in un modo simpatico. Veramente simpatico, contrariamente al nome come è stato citato, sono estremamente vivi e simpatici. Grazie davvero, buon lavoro e eventualmente ci rivediamo. Dopo la pubblicità cambiamo argomento. Allora, la seconda parte di questa puntata di Triesta in diretta, come annunciato adesso parliamo di due iniziative presentate dal Centro Studi Astronomici Antares, noi siamo in compagnia del dottor Giorgio Rizzarelli e dell'ingegnere Alessandro Albanese che ringrazio per essere venuti nei nostri studi, entrambi sono appunto componenti, il direttivo del centro che si chiama Antares per via di una stella, no? Ok, perfetto. Questa è l'unica, io lo dico subito, in geografia astronomica ero veramente una schiappa e ancora non ho capito la differenza tra polo nord terrestre e polo nord celeste. Mi hanno detto che da una parte è meglio andare coperti, ma insomma, a parte questo, da che cosa partiamo? Partiamo dal corso di fotografia astronomica. È un corso di introduzione all'astronomia e alla fotografia astronomica. Viaggiano paralleli? Sì, allora c'è bisogno. C'è da dire che il pubblico è un corso rivolto al pubblico, quindi di solito il pubblico si avvicina all'astronomia perché vede le foto spettacolari delle sonde piuttosto che dei telescopi spaziali o dei professionisti della fotografia astronomica. Quindi noi intendiamo portare al pubblico i fondamenti dell'astronomia e introdurli a quello che è la fotografia astronomica, perché senza conoscere il polo nord celeste o quello geografico non riusciamo neanche a capire che cosa andiamo a fotografare. Ci sono poi delle tecniche particolari per la fotografia astronomica. Insomma, partiamo dalla base teorica, se vogliamo, per poi applicarla a un campo più affascinante che è quello della fotografia. La fotografia astronomica si è andata, come dire, specializzando, non è corretto come termine, ma immagino che per quanto riguarda le immagini, per quanto riguarda le tecniche ci sia stato nel corso degli anni un affinamento sicuramente. Sì, notevolmente, anche perché oggi abbiamo l'astrofotografia digitale, quindi un po' come per la fotografia tradizionale, oggi fare le fotografie diciamo che in qualche modo è più facile, perché uno può vedere subito il risultato, cioè una volta bisognava sviluppare il rollino della pellicola e fotografando il buio non si riusciva neanche a capire se la foto veniva subito. E quindi diciamo che a qualsiasi livello uno face fotografia astronomica, che sia a partire dalle basi, che è una delle cose che noi faremo nel nostro corso, quindi noi insegneremo a portare a casa dei risultati subito, anche senza avere un'apparecchiatura specifica, semplicemente con appunto una macchina digitale con un treppiede, un obiettivo, cosa che molti hanno, oppure anche a livello molto più avanzato, come delle foto che vedremo poi nelle nostre slideshow, come per esempio queste qui del sole, questo ci vuole più esperienza, più apparecchiatura per fare queste fotografie, beh questa luna è facile, sicuramente a tutti i livelli è molto più facile oggi che una volta. Ma per esempio, quando si realizzano questo tipo di immagini, uno, come posso dire, già sa quello che ha in mente dice, voglio fotografare questo, voglio fotografare, oppure so che è brutta detta così, va là e fotografa e quello che viene, viene? Beh questa è una buona domanda, perché è proprio quello che volevo dire prima, uno di solito ha già in mente cosa vuole ottenere, vuole ottenere delle immagini spettacolari come quelle che stiamo guardando in sottofondo. Per ottenere questo tipo di immagini bisogna conoscere il soggetto che vogliamo andare a riprendere. Le caratteristiche dei soggetti sono diversi e quindi per ottenere questi risultati bisogna prima conoscere quali sono queste caratteristiche. Quello che vogliamo fare è proprio questo, coinvolgere nella nostra passione, che poi è parte scientifica e parte artistica, il pubblico e portarlo a questo tipo di risultati. Questi sono un po' più difficili perché si tratta di profondo cielo, ma si può arrivare a ottenere questi risultati con un po' di applicazione, ma soprattutto con la passione. Ho capito, quindi per esempio queste sono immagini un po' più complesse da ottenere, però magari alcune di quelle che abbiamo visto prima, è sufficiente una buona macchina digitale sapere logicamente che devi fotografare questa cosa piuttosto che altre e ce la fai. Certo, ma per esempio è importante anche tenere conto dell'agenda, del calendario. La Luna è la cosa più importante di tutte quando uno fa fotografia astronomica, anche quando fa osservazioni astronomiche. La Luna c'è la fase lunare. Le fasi lunari, esatto, perché noi amiamo molto la Luna, specialmente Alessandro, perché mi piace fare molte osservazioni e fotografie della Luna, però fra virgolette la odiamo anche la Luna, nel senso che se uno vuole vedere e fotografare gli oggetti deboli come la Via Lattea, come le galassie, le nebulose, uno ha bisogno di avere un cielo senza il chiaro di luna. Anzi, perché il chiaro di luna dà un fondo cielo azzurro che assomiglia un po' a quello del giorno, che per così dire si mangia gli oggetti deboli. Il che porta tra l'altro al discorso anche dell'inquinamento luminoso che è di moda in questo momento, perché si festeggia adesso, fra poco, la International Dark Sky Week, che vuol dire, diciamo… Cielo nero. Prego? Cielo nero. Sì, 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 dark sky nel senso che cercare di sensibilizzare il problema dell'inquinamento luminoso, ecco. Quindi per guardare o fotografare nebulose, via Latte, eccetera, è necessario avere un cielo ragionevolmente non disturbato, un fondo cielo non disturbato, e quindi prima di tutto bisogna essere nella vera notte astronomica, quindi non avere il crepuscolo, non avere il disturbo della luce del sole diffusa dal cielo. Poi non bisogna avere chiaro di luna, quindi bisogna essere in una fase tipo di luna nuova o la luna calante, che è quella fase in cui di sera, nelle ore serali, che sono le più comode, non c'è luna nel cielo. E poi è necessario anche cercare di evitare il problema dell'inquinamento luminoso, cioè il disturbo che viene causato dalle luci artificiali cittadine, che è un problema che… Di questo parliamo anche dopo, perché effettivamente questa è una foto che ci servirà anche dopo, ma che vale la pena di far vedere in questo momento, perché questa tra l'altro credo che l'abbia scattata la Cristoforetti, se non mi sbaglio, ed è un'immagine del nostro paese, appunto ti fa vedere, adesso detta così, proprio la situazione di quanta luce artificiale, desumo, no? Especialmente la pianura padana. Sì, è abbastanza incredibile per dire la verità, in Toscana da quelle parti là pare non ci sia niente, ma va bene insomma. Ci sono dei porti, sì, anche in Toscana, però la maggior parte della luce artificiale è in pianura padana in Italia, è una lampadina praticamente diventata. Per fortuna noi abbiamo la Slovenia, ecco noi qua di Trieste, abbiamo vicino la Slovenia, quindi a 30 minuti di macchina riusciamo a avere un cielo ragionevolmente abbastanza buio per vedere una bella via Lattea. Prego, prego Ingegner. Volevo aggiungere a quello che sta dicendo Giorgio, dal punto di vista dell'inquinamento luminoso la pianura padana è uno dei punti più inquinati d'Europa, è vero che c'è una concentrazione estrema di città l'una vicino all'altra, infatti dalla foto della nostra Cristoforetti si vede proprio come i centri abitati, il lumino e il cielo notturno. E' questo insomma. Posso fare una domanda da perfetto, come dire, ignorante in tal senso. Per le ragioni che voi avete detto, le foto astronomiche, la foto astronomia è qualche cosa che si pratica diciamo di notte e è solo così, cioè uno che sa quello che vuole fotografare e anche che sapesse come fare per fotografarlo. Può fare delle foto astronomiche anche di giorno? Sì. Questa è una domanda molto interessante. Esiste un settore di nicchia nell'astronomia, che è l'astronomia diurna, che è soprattutto quella solare, quella del sole. Ah, certo. Quando si parla del sole bisogna dire prima di tutto per la sicurezza che non si deve mai guardare e neanche fotografare, soprattutto mai guardare il sole attraverso un qualsiasi sistema ottico che amplifichi la luce, quale un binocolo, quale un teleobiettivo di macchina fotografica o, peggio, ancora un telescopio, a meno che di non avere un filtro solare specifico che deve essere messo sul lato frontale davanti all'ottica prima che la luce entri e venga concentrata, altrimenti si ha l'effetto specchio-austorio e quindi uno può anche accecarsi diciamo. Ma io personalmente ho fatto centinaia di sessioni del sole come guidare la macchina, ci sono delle regole di sicurezza. Sì, sì, uno sa. No, ho fatto questa domanda per un motivo. Anche pianeti per esempio si possono vedere di giorno con il telescopio? A certi anche occhio nudo, venere si vede occhio nudo di giorno, sì. A me incuriosiva come domanda, ma è una stupidaggine, io noto sempre che i film dell'orrore sempre di notte succede quello che deve succedere e quindi chi guarda quei film ormai sa che è buio, succede qualcosa. Invece io vorrei un film dell'orrore che si svolgesse durante il giorno in modo che sarebbe curiosa. Mi è venuto in mente proprio per, proprio che mi rendo anche conto appunto sì che bisogna, in quel caso bisogna davvero sapere cosa si vuole fotografare e come farlo. Posso aggiungere una cosa a quello che sta dicendo e si collega alla domanda che ha fatto prima? Sapendo cosa fotografare si può fare fotografia astronomica o osservazione astronomica anche dal centro delle città. Prima Giorgio accennava della mia passione per la Luna che non è soltanto perché è un oggetto che una volta conosciuto ha il suo fascino, ma anche perché è a disposizione tutte le sere, quasi, dal centro della città, dai nostri balconi, da zone anche fortemente inquinate dal punto di vista dell'illuminazione pubblica. I pianeti si possono osservare sapendo dove sono, si possono osservare e fotografare anche dal centro della città. Quindi noi nel corso di astronomia vogliamo insegnare proprio questo, una volta riconosciuti i soggetti e dove andarli a cercare nel cielo notturno, a quel punto diventa più facile coltivare la passione della fotografia. Tra l'altro il corso quando incomincia? Incomincia ad aprile, no? 20, sì giorno 20. E le lezioni si terranno in sala Bazlen di Palazzo Gopcevic? Sì, quelle teoriche sì, perché abbiamo anche 3-4 uscite pratiche. Come ci si scrive? Ci si iscrive attraverso i nostri canali social media o scrivendo a Centro Studi Astronomici, Chiocciola, le nostre email, cercateci sui nostri social media, oppure presentatevi il giorno stesso dell'inizio del corso e là si può, per i ritardatari noi insomma siamo… Gli accogliete insomma… Il corso ha un costo molto basso perché siamo un'organizzazione di volontariato e quindi il costo è solo l'iscrizione all'associazione che sono 20 euro. Beh insomma… Non rispecchia la qualità insomma del lavoro che ci mettiamo dietro ecco. Però noi lo facciamo per passione. Però lo facciamo per passione, sì. Quindi quando poi si fanno le cose per passione sarete gli insegnanti più tremendi. Esatto. Perché uno poi… Ma infatti lei si iscriva con le sue domande intelligenti. Non mi manca che quello. La curiosità è la prima cosa che serve per partecipare a un corso del genere. Poi noi vogliamo dire che è per tutti quanti. Sì. E sia per chi si avvicina all'astronomia che per chi ha semplicemente la curiosità o chi ha un nipote, un… sapete diciamo io raccontando la mia esperienza io ho ricevuto il regalo quando ero piccolino, un telescopio. Come uso questo oggetto? Quando lo posso usare? Chi mi insegna a utilizzarlo? In tanti hanno ricevuto dei regali del genere che magari sono lì in soffitta o in garage a impolverarsi. Tiriamo fuori questi strumenti e insomma impariamo a utilizzarli. E questo potrebbe… Anche il binocolo per esempio, con il binocolo si vede tantissimo. Il binocolo è quello con due, no? Sì, il binocolo, ok. E su questo io poi ho proprio una sorta di… mi dispiace anche perché mi rendo conto che bisognerebbe conoscere tutto, però ho proprio una chiusura. No, ma non è mai troppo tardi insomma, è per tutte le età. Ma forse io sono rimasto fregato da… io ero uno di quelli che credeva che… sono rimasto fregato da spazio 1999, io credevo che il 13 settembre del 1999 dovesse succedere chissà cosa e invece sono rimasto un po' male quel… tanto nel 1999 c'è stato un'eclisse anche più o meno in quei giorni, io ero a Londra fra l'altro, questo mi ricordo. Invece… Io ero in Germania e si è annuvolato proprio in quel momento lì. Io no, a Londra l'ho vista proprio… l'ho vista benissimo. Ecco, io volevo aggiungere una cosa che lei ha chiesto prima, se uno pianifica le fotografie e le osservazioni o se arrivano delle sorprese. Ecco, parlando proprio del sole, per esempio, le sorprese arrivano. Il sole uno ogni giorno lo guarda, ogni giorno è diverso. Ovviamente avendo le parchetture adeguate con i filtri eccetera, ci sono sul sole eventi come macchie solari, come protuberanze, lingue di fuoco per dirlo, insomma, in un gergo semplice che compaiono a sorpresa di giorno in giorno, da ora in ora addirittura possono evolvere, quindi lì arrivano anche le sorprese. Questa poi è anche parte della teoria stessa della fotografia, nel senso che tu sai quello che vuoi fotografare, però non è detto che non succeda qualche cosa che ti fa cambiare… Diciamo la verità, Alessandro, una foto astronomica non viene mai come uno vorrebbe, quasi mai. Ci sono sempre problemi tecnici, però tante volte vengono fuori delle sorprese, per esempio le condizioni atmosferiche possono essere un po' diverse da come uno si aspetta. Quindi magari uno in una foto del cielo stellato ha qualche nuvola che magari in qualche caso fa qualche cosa di particolare, oppure il paesaggio anche che si combina con il cielo stellato. Può creare delle situazioni magari diverse da quello che uno si aspettava prima. Invece per quanto riguarda l'altra iniziativa che riguarda appunto il tema dell'inquinamento luminoso, voi avete in programma un'iniziativa per sabato se non mi sbaglio. Sì, meteo permettendo, ecco le sorprese. Sarà probabilmente rimandato a data da destinarsi, perché ovviamente… È previsto brutto per sabato? Al momento sì. Comunque, abbiamo anche qui delle immagini che sono anche abbastanza eloquenti, abbiamo visto quella scattata dalla Cristoforetti, poi ce n'è una che riguarda proprio la zona nostra, se non mi sbaglio. Esatto, abbiamo il Golfo di Trieste, abbiamo la città, sulla destra vediamo Slovenia. Sì, c'è una concentrazione piuttosto… le zone rosse, no? Le zone rosse sono quelle urbane, Trieste, Capodistria, le zone gialle intermedie diciamo e le zone scure rappresentano le zone dove c'è poco inquinamento luminoso. Quelle che diceva lei della Slovenia dove appunto è più facile questo. e poi però abbiamo anche due foto che forse potremmo far vedere in successione, nel senso questa qua che io… no, questa la farei vedere per ultima, farei vedere prima… No? Quella del Mola Udace, sì. Sì, quella del Mola Udace, dovremmo averla perché… eccola qua, questa che cosa… Se ho capito bene, questo è ciò che vediamo dal Mola Udace per via proprio dell'inquinamento luminoso. Sì, sì, quasi vedete bene in pratica che cos'è l'inquinamento luminoso, cioè le luci artificiali della città e parliamo soprattutto delle luci dei lampioni, del porto, che si vedono, no? Alcune di queste luci si vedono, ma si tratta di tutte le luci della città che sono combinate insieme, quelle più brillanti, non danno solo un problema della luce diretta che ci arriva e che ci impedisce ai nostri occhi di adattarci al buio, ma vedete che c'è un alone nel cielo, sulla parte in basso a sinistra, quello che succede è che l'aria, l'atmosfera, quella parte di atmosfera che sta intorno alla città, sopra la città, diffonde specialmente se c'è umidità, diffonde la luce e quindi crea un fondo cielo che non è nero, ma come vedete è un colore che può addirittura diventare giallo, bianco. Si, cioè, praticamente, quello che noi... E questo si mangia, si mangia gli oggetti deboli, infatti le stelle più deboli, per esempio. In questa foto qui che è fatta in città si vede chiaramente soltanto le stelle più brillanti, questo è il cielo invernale, Orione. Ecco, invece, se vediamo quell'altra che è stata scattata in Croazia, quindi in un luogo dove non c'è questo... Ce n'è di meno, ecco, in Nuova Visignano dove c'è un cielo più pulito. C'è una cosa completamente, completamente differente. Questa è la stessa zona della sfera celeste con Orione, la costellazione di Orione, qua è molto più facilmente riconoscibile, il centro della foto, il rettangolo con le tre stelle della cintura in mezzo e questo è un cielo abbastanza più pulito. Non del tutto pulito, perché si vede che in basso a destra c'è un po' di... C'è molto inquinamento luminoso, perché lì tra l'altro ci sono le nuvole che riflettono e diffondono. Però se... è come... adesso detta così... è come quando si vede un'immagine tipo in HD, come questa, è un'immagine invece, diciamo, normale, come quando internet non funziona bene, vedi che è un po' tutto, come si dice, sgranato, eccetera, e qui invece... oppure se vogliamo l'occhio più attento, è come vedere un film in VHS, è come vederlo in Blu-ray o in DVD. Sì, in realtà non è tanto un discorso di risoluzione, perché per esempio... No, è l'idea proprio, l'idea che mi viene, sono la sensazione. Ma vediamo per esempio i pianeti, si vedono, come diceva prima Alessandro, i pianeti della Luna benissimo in città, lì quelli sono soggetti dove uno va a guardare i dettagli. Invece il problema dell'inquinamento luminoso per l'astronomia riguarda gli oggetti deboli, come le stelle più deboli, la Via Lattea, quindi il numero di stelle che uno vede si vede dal confronto di queste due foto. In città uno vede qualche centinaio di stelle, solo quelle più brillanti. Noi abbiamo perso l'abitudine a riuscire a vedere il cielo stellato, molti di noi non sanno bene che forma abbia la Via Lattea e anche quando magari potrebbero... Sì, ho capito, vederla non la riconoscono. Quando fino a poco prima dell'illuminazione pubblica si facevano vere e proprie osservazioni scientifiche dal centro città, qui vicino noi abbiamo la sede storica dell'osservazione astronomica di Trieste. Comunque, passare da un punto molto inquinato dal punto di vista dell'inquinamento luminoso a dei punti come quelli che abbiamo visto in Croazia, è una sorta di viaggio indietro nel tempo a quando non ne avevamo nemmeno bisogno di tutta quell'illuminazione pubblica o necessaria per le attività umane. Non si può nemmeno, come posso dire, circoscrivere il problema dell'inquinamento luminoso alla possibilità di vedere più o meno le stelle alto, c'è qualcosa anche di più importante dietro in marzo. Certo è che a livello legislativo esiste in tutta Italia una legge che è declinata poi nelle diverse regioni, noi qui in Friuli, Venezia e Giulio abbiamo una legge che funziona molto bene e che regola l'inquinamento luminoso, da che punto di vista? È inquinamento luminoso tutta l'illuminazione che non è necessaria. Che non è necessaria? Non è necessaria né dal punto di vista delle attività umane né dal punto di vista energetico. Adesso ci facciamo tanti problemi sul consumo energetico, tutto ciò che non è necessario a livello di illuminazione spreca energia, stiamo parlando di quei lampioni che rimangono accesi a orari ingiustificati, in località ingiustificate, piuttosto che a fari dimenticati da chissà quanto tempo. Tutta questa illuminazione che non è rivolta verso il basso e che quindi ha un'utilità, ma è rivolta verso l'alto è inquinamento luminoso. Qualora si svolgesse adesso, visto che mi pare di capire che ormai se c'è... Abbiamo una settimana, perché l'International Dark Sky Week è la settimana che va dal 15 al 21 aprile. Quindi potete recuperarlo? Possiamo recuperarla, come sempre. Ma magari ci fate sapere, anche così lo diciamo nei telegiornali. Seguiteci sui nostri canali social, daremo comunicazione puntuale. Succede sempre in astronomia, noi siamo schiavi del meteo. Ah beh già, è vero, sì. Allora, chi invece, chi, anche qua so già la risposta, ma è la domanda che si fa quando si è in chiusura comunque, chi volesse conoscere meglio il centro di studi ha a disposizione le pagine social e magari può anche venire ad una delle vostre iniziative, così conosce meglio anche chi ne fa parte, eccetera. La nostra associazione vive di divulgazione e di serate pubbliche. Se non abbiamo il pubblico ci troviamo fra noi, siamo molto amici, però non abbiamo niente da condividere. Allora, io ringrazio Giorgio Rizzarelli ed Alessandro Albanese per essere stati i nostri ospiti. Buon lavoro. Ricordatevi... Antares Trieste, ecco, googlate su Facebook oppure su internet, trovate il sito Antares Trieste. Ecco, aggiungete Trieste perché... Se no vengono fuori tantioni. Se no, io mi sono imbattuto prima in uno romagnolo. Perché Antares è molto... Eh, perché appunto. E ricordatevi anche questo corso di astronomia e astrofotografia che inizia il 6 di... 20. Il 20 di aprile alla sala Bazren di Palazzo Gopcevic. Se volete potete iscrivervi anche nello stesso giorno. Grazie ancora, buon lavoro e noi ci vediamo domani come sempre alle ore 18. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Grazie. 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 Grazie.